Indovinate cosa mi sono riletto ieri sera? Tadà! Il Graucio Terzo, ovvero il numero 38 del Dilan Dog Color Fest L'unica vera testata della Bonelli che vuole veramente sorprenderti, numero dopo numero Il Graucio in particolare poi è sinonimo di divertimento, di assurdità e quindi quando c'è voglia di divertirti Parola di Graucio Secondo, eh? Ci siamo capiti, no? Tre storie divertentissime La prima di Sio, il mitico Sio La seconda della Barbato e di Piccato E la terza di La Rosa Bertelè Tre storie assolutamente divertenti, piene di citazioni, di personaggi della cultura pop come Charlie Chaplin Igor di Frankenstein Jr Ma anche il Dottor Watson Chi più ne ha più ne metta davvero Quindi un Color Fest che possiamo rileggerci anche tre mille volte sarà sempre di altissimo livello E non vedo l'ora che esca il prossimo numero che uscirà a novembre dal titolo Materia Oscura E già da qui si può vedere come chiaramente queste tre storie contenute nel prossimo numero saranno assolutamente sorprendenti Sia per i disegni, per la colorazione e chissà forse anche per le storie che ancora devo leggerle ma c'è poco da fare Il Color Fest è garanzia proprio di voglia di sorprendere Assolutamente Viva il Color Fest di Dylan Doug Viva il Color Fest di Dylan Doug